Sono alcuni, perché allora si andavano a fare il bando a Reno, sono alcuni, vero? E lì mio padre e mia madre si conoscono lì e festeggiano i 50 anni di Massepone nel 2005, quindi sono 50 anni, se siete un po' attenti, giusto, bravissimo, bravissimo, bravo! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti!